Dolore fisico, eruzioni cutanee, senso di isolamento, minaccia costante per la propria vita. Sono le conseguenze della psoriasi pustolosa generalizzata o GPP, una patologia rara della pelle. Per promuovere una corretta informazione e una sempre più tempestiva presa in carico dei pazienti è nato il progetto Sulla mia pelle, vivere con la GPP, promosso da Boehringer Ingelheim con associazioni di pazienti e di medici specialisti. Le patologie della pelle vengono molto sottovalutate anche dagli erogatori di sanità, dagli erogatori di salute. Bisogna cambiare un attimo il punto di vista e cominciare a considerare che le patologie in grado di impattare sul benessere della persona sono altrettanto importanti come quelle che possono mettere a rischio proprio la salute fisica della persona. La campagna è ispirato Unwearable Collection dell'artista Bart Hers per la prima volta esposta in Italia, una collezione di cinque sculture che rappresentano le difficoltà delle persone colpite da GPP. Il paziente si trova in una condizione di isolamento sociale, solitudine che ovviamente aggrava la situazione già devastante che vive per la patologia sottostante. Quindi noi sì abbiamo voluto utilizzare il linguaggio della moda e dell'arte in questa settimana della Fashion Week perché riteniamo che così possiamo richiamare più attenzione proprio per aumentare la conoscenza di questa malattia. La collezione ha ispirato un contest rivolto agli studenti dell'Accademia del Lusso e i modelli finalisti hanno sfilato in occasione della Milano Fashion Week. Ed è stata una sfida anche per i nostri studenti che si sono cementati in una malattia veramente particolare, rara. Stasera vedremo arte ma soprattutto moda, moda che racconta una patologia, moda che parla di salute.